Tutti tifiamo per l'inaugurazione del 29 febbraio e tutti saremo ben felici di poterne usufruire nell'anno della Capitale della Cultura. Ci auguriamo che sarà ricco di eventi anche al Palazzo Cavolini. Però le domande ancora sono tante. Io ho depositato prima della fine dell'anno un'interrogazione rivolta all'assessore Pozzi per capire innanzitutto quali saranno le tempistiche, se davvero siamo pronti per fare l'inaugurazione e soprattutto il collaudo del palazzetto il 29 febbraio, così da renderlo fruibile alla città e al mondo intero, insomma a tutti coloro che arriveranno a Pesaro. E poi per capire quali saranno i costi, perché nella ultima commissione controllo atti del 31 di ottobre sono venute fuori ulteriori richieste da parte della prima azienda che ha lavorato al palazzetto. Hanno iscritto riserve, quindi hanno fatto una richiesta formale di un milione e mezzo di euro. E io in questa interrogazione provo a chiedere all'amministrazione comunale quali sono le intenzioni. Cercheremo di transare, quindi di trovare una via di mezzo, oppure andremo in contenzioso? Perché quelle richieste sono state fatte. È vero che l'amministrazione comunale le ha contestate integralmente, però agli atti c'è questa richiesta. Io credo che sia giusto per la città di Pesaro capire anche quali sono i risvolti economici. Alla fine sono i soldi di tutti che hanno permesso, speriamo, consentiranno il 29 febbraio di inaugurare il palazzetto e di renderlo fruibile. Però è importante capire quali sono stati negli anni anche gli aumenti. Siamo partiti nel 2015 con un costo stimato intorno ai 3 milioni e mezzo, 4 milioni di euro. Adesso, insomma, i costi sono lievitati. Cerchiamo di fare chiarezza. Il 15 gennaio verrà data risposta a questa interrogazione, che era l'ultima non evasa nel 2023, quindi la prima del 2024. Speriamo vengano date risposte certe, anche per capire realmente i costi. Perché capite che un palazzetto che sicuramente poteva contenere tante persone negli anni d'oro della Scavolini, oggi è stato profondamente ridimensionato. Si parla di non più di 1.400 persone ospitabili. Capite bene che i costi che all'inizio si aggiravano intorno a 3 milioni e mezzo, oggi sono abbondantemente lievitati e anche la mole di persone che potranno essere ospitate è stata profondamente ridotta. Uno stravolgimento anche rispetto poi alla viabilità e alla possibilità di accedere perché nuovi parcheggi non sono stati fatti. La zona sicuramente otterrà grande beneficio anche per ospitare qualche convegno, qualche evento. Sicuramente non sarà facile per coloro che abitano nella zona riuscire a conciliare tutto quanto. Speriamo di avere risposte presto, speriamo che l'amministrazione comunale faccia chiarezza.